Ecco le entrate in campo, sono le 18, Virtus Castelpentano con la classica maglia giallorossa e la valle Aventino con la maglia rossa, pantaloncini e calzettoni neri. C'è la scelta del campo, la metà a campo, o del pallone. Ok Cristian andate a salutare, ci facciamo una foto pure, perché non ce l'abbiamo. Ecco, fra poco inizia la gara. A posto? Ok. Un, due, tre, Fritschere! Sìììì! In bocca al lupo! In bocca al lupo!